Rappresenta una metodica di diagnostica per immagini non invasiva e ad alta risoluzione. Una metodica diagnostica medica oculistica per immagini tomografica. Parliamo dell'OCT che consente lo studio in vivo degli strati cellulari e delle fibre nervose. Tomografia a coerenza ottica, detta anche tomografia ottica computerizzata, rappresenta una metodica di diagnostica per immagini non invasiva e ad alta risoluzione. In buona sostanza la tomografia a coerenza ottica è una sorta di ecografia con la luce e quindi possiamo paragonare la tomografia a coerenza ottica ad una biopsia non invasiva o ad un'attacca all'occhio. Sin dall'inizio della sua utilizzazione la tomografia è stata utilizzata in diversi campi della medicina quali quella la cardiologia e l'oncologia, anche se il campo sicuramente dove ha trovato un maggior impatto clinico è quello della ofotalmologia. Senza un esame OCT nessuna patologia ritinica è affrontabile sia in termini diagnostici che prognostici. Questo è un esame OCT nessuna quantità è una pit� зigione del processo per immagini di 2500 questa ricca è un esame OCT nessuna potringione, 바� agents piastano самое survives untativo il processo per의� employee should assistenza dell'euro e iladora cosmonose è affront Executive fear of Ungが edut, di fatto significa Christie,